Trata un attimo su quelli, no no ci sono, parlo, tranquilli Buongiorno, buongiorno a tutti raga, come state? Mi sta venendo anche il raffodore No, ce l'avevo già in realtà nei giorni precedenti Scusate ragazzi ma C'è questa aria con... Mi devasto Grazie per le rose Albani, grazie per la rose Grazie per la coroncina Come stai? Bene? A parte un po' di raffreddore, un po' di stanchezza fisica che ho avuto in questi giorni O lì, grazie per le rose Il toscano si sente forte Ma qualcuno mi dice che non si sente più Qualcuno mi dice che un po' si sente Non lo so ragazzi Io ho raggiunto Qui mi dice che un po' di raffreddore Qui mi dice che un po' si sente più Ok ragazzi, questo era l'ultimo obiettivo della live Quindi ringrazio tutte le persone di essere stati in live Ringrazio tutti quelli che mi seguono Ringrazio tutti quelli che mi seguono Mando un bacio a tutti E ci vediamo nella prossima live Mi raccomando Rimanete connessi Un bacio a tutti Ciao Ciao